Ciao a tutti, io sono Ambu e rieccoci in questa puntata di Trapped. Attenzione, eravamo arrivati in questa stanza e leggiamo cosa ci dice il cartello. Ora dovrai testare le tue skill di ascolto musicale, un'altra richiesta molto molto semplice dove non puoi morire. Allora, qui avevamo già preso il lapislazzolo, dovremo cliccare qua, credo. Ok, ci fa sentire dei rumori che dovremo riprodurre, mi sa. Tac, tac. No. Questo e questo. Vabbè, dai, questa era una cacchiata comunque. Fin troppo semplice. Se sono tutte così, quelle dopo. Ma che cazzo... Oddio. Guardate, uno non può nemmeno camminare che si becca queste sorprese. Non avevo nemmeno visto la pressure plate in realtà, mentre passavo. Ho un altro po' di parkour, perché il parkour fa sempre bene. Io sono un cazzo di pro a fare parkour. Uno entra per registrare la sua bella mappa e già deve rosiccare dopo 30 secondi che è entrato. Mannaggia, ste mappe. Giù là in fondo c'è una bella cassa. Quindi sarà un nuovo lapislaz... Oh! Non ce la faccio più! È impossibile! È impossibile, ragazzi! Sì, vabbè. Ok, ok. No, dai, ora... Ma che cacca? No, no, io sto per sbroccare pesante, proprio... Oh, e ci voleva tanto? Non mi pare. Su. Qua? Cos'è? Oh, checkpoint! Andiamo ad aprire il checkpoint. Wow, perché sta porta si è rotta? LOL Che cazzo è? Qua è chiusa, volevo dire... E lì si è rotta. Vabbè, va bene. Va bene così, va bene così. Ah, qui ho una specie di checkpoint, diciamo, per recuperarmi il flint and steel. Ok. E qui sopra, invece, avevamo... Vediamo... Penso che sia il momento di... Cavalcarie! E... Un minecart... Siediti nel minecart e divertiti... Qua altri minecart... Storage system... Comunque, sono felice, ragazzi, che la mappa vi stia piacendo, che vi divertiate abbastanza a seguire questa serie. Io sinceramente mi sto divertendo molto a fare questa mappa e la consiglio a tutti voi. Ora partiamo... Ora partiamo... Vediamo cosa succederà... Oh, avevo preso fuoco... Mordila... Ma... Ma che cazzo? Nasd... 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 E vabbè... Ripartiamo e speriamo che questa volta avrò i riflessi per buttarmi... Ora... Ah, qua vedi che c'era un quadratino, non pensavo, bisognasse entrarci. Io li scendo, vaffanculo un'altra volta lava, come ti ho detto, troverò un secchio d'acqua e ti farò diventare ossidiana. Oh... Eccoci qua, in questa nuova stanza, attenzione, tutti i miei oggetti... Mio, 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 mio... Ok... Mmm... Interessante, allora, di qua non c'è modo di aprirlo, qua non posso saltare... Di qua vediamo... Oh no, ancora parkour... No... Però, sembra che sto riuscendo a farlo, eh... Sì... Sì, sì... Attenzione... Eh... Che cazzo di forno... Sì, ma guarda quanto mi manca ancora, dai, ma non è possibile... Soprattutto a cosa serve? Ah, c'è un bottone sulla... La tensione si fa... Pesante qui... Pesante qui... Opp... 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 Il più forte... Il più forte... Ambuno... Il più forte sulle mani... Ambuno... Il più forte... Il più forte... Oh... Ci voleva questa... Lol... Gli dice l'acqua da un occhio... Poverino, sta piangendo... Forello... Ok, risaliamo da qua... Oh, oh... Un box... Fermi tu... Io... Guarda che... I posti dove nasconde le box... Mi immaginavo qualcosa di più... Interessante... Che si nascondigli molto scherzi... Vediamo... Cioè, il più interessante era quello all'inizio che non avevo nemmeno visto... In realtà... Ecco... Caduto... Vai... Vai... Let's go... Qua cosa devo fare? Mmm... Sì no, di lì è vuoto... Oh... Ne manca ancora... Però dai... Sono felice che il parkour sui cubi di vetro riesco a farlo bene... Evidentemente dipende dal... Dal tipo di cubi con cui ho a che fare... Se ho a che fare con... Con un materiale che non è... Un cazzo di cubo di... Di vetro... Non riesco a fare parkour... È risolto il grande mistero... Oh, qua... Fuoco... Ok... Mmm... Due canne da pesca... Ne ho ne una intanto... Qua ho... Cos'è sta roba? Allora... Lol... Il creeper sta piangendo... Nooooo... Eh... L'ho fatto incazzare perché ho fatto piangere il creeper... E ho fatto una sorpresina dentro questa stanza... Allora io ho sta canna da pesca... Che cazzo ci devo fare? Tac... 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 Oddio... Non dirmi che devo spararla tipo sulla pressure plate... Mi sa di sì... Sì ma è impossibile... Si incastra... Che ho... Eh... C'è quasi arrivato... Vai... Vai... Credo in te amo... No... Vai amo... Oh... Oh... Vabbè cagliare... Devo lasciarlo sopra e spostare... Vai amo... Tanto ormai sappiamo come... Come ragione il nostro nemico... Siamo i più forti... Vai... Vai... Entra dentro amo... Amo... Su... 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 Dove è andata la canna da pesca? Oddio... Oddio... Potrebbe essere un grande problema questo... Ecco perché c'erano due canne da pesca... E se mi finiscono tutte le canne? Che cazzo? Eeeh... Oh... Ma come... Dai che non è... Fanculo... Ok... Ce l'ho fatta... Fermi tutti... Digi... Riprendiamo il mio amo... Mmm... Il prodotto che posso saltare... Oddio... 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 Ha ha ha... Penso che questa lava ti ucciderà... Deve morire... Bla bla bla... E' sempre molto cattivo con me... Questo personaggio che ha creato la mappa... E' davvero... Un gran cattivone... Non so perché mi voglia... Oddio... Non so perché mi voglia così tanto male... Io non gli ho fatto niente... Vediamo... Storage system... Mmm... Prendiamo la sand intanto... Storage system... Tac... 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 Boom... No... Ho fatto una cagata... Ho mandato via l'accendino... Vaffanculo... Devo andare a recuperare un accendino... Come cazzo fai... Ehi... Non posso più recuperare un accendino... Dovrà spaccare tutta mano... Morco... T exercici... Apro... Adatto... Duggiamo...